Il fatto che anche le freelance vanno in maternità, Miriam. Ciao a tutti, è il mio secondo freelance camp da speaker e ancora non ho capito i tempi dello stacchetto ma è la prima volta che salgo su un pulpito quindi è piuttosto emozionante. Oggi vi parlo, come diceva Alessandra, del fatto che anche noi freelance andiamo in maternità e mi avete visto girare tutto il giorno con mia figlia di 5 mesi, adesso è arrivata l'altra figlia quindi io oltre ad essere una freelance da più di 10 anni sono anche una mamma e per questo volevo condividere con voi la mia esperienza non tanto di mamma, tranquilli, ma di mamma freelance che si è addentrata nei meandri dell'Inps ed è riuscita a ottenere quello che le spetta. Quante volte a me è capitato di leggere magari delle conversazioni sui social oppure di ascoltare delle conversazioni dove si diceva ah sono incinta, aspetto un figlio, io sono freelance, non mi spetta niente. Ecco questa cosa non è vera, quindi questo speech nasce dal desiderio di condividere quello che ho imparato con queste due maternità e dal fatto che credo sia giusto far valere i nostri diritti perché qualche diritto lo abbiamo e quindi è giusto approfittarne. Io per lavoro mi occupo di cibo ma appunto oggi parlerò di questo. Innanzitutto quali sono gli strumenti di welfare per le freelance? Faccio un attimo una premessa, oggi parlerò delle freelance iscritte alla gestione separata, quindi se siete iscritte o iscritti perché poi vedremo ci sono anche degli strumenti per i papà, se siete iscritti ad altre casse previdenziali purtroppo non vi posso aiutare. Fondamentalmente gli strumenti sono tre e sono il congedo di maternità, il congedo parentale e poi ci sono una serie di bonus e altri aiuti economici. Il congedo di maternità è un periodo di assenza che ho messo tra virgolette e vi spiego tra un attimo perché dal lavoro di cinque mesi che viene retribuito e riconosciuto a tutte le lavoratrici, tanto alle dipendenti quanto alle freelance. Ho messo assenza tra virgolette perché a differenza delle dipendenti noi non abbiamo o meglio dal 2017 non abbiamo più l'obbligo di astensione dal lavoro. Questa è stata un'importante novità introdotta dal cosiddetto statuto degli autonomi, cioè la legge 81 del 2017, che ha eliminato l'obbligo di astensione che per noi lavoratrici indipendenti era molto penalizzante. Poi tutti lo aggiravano perché magari fatturavano dopo un lavoro fatto durante la maternità, però di fatto sussisteva questo obbligo che è stato abolito. Il congedo è un periodo di cinque mesi, come dicevo, che va a cavallo tra la fine della gravidanza, quindi di solito gli ultimi due mesi di gravidanza e l'inizio del puerperio, i primi mesi del bambino, quindi di solito si fanno due mesi prima e tre mesi dopo, poi si può chiedere anche la cosiddetta flessibilità e quindi si può fare un mese più quattro mesi. I requisiti sono essere in regola con il versamento dei contributi, quindi nell'eliquota vigente che è il 25,72% e aver vessato almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo. Ho messo un bel asterisco qui perché fra un attimo vi spiegherò come funziona questa cosa che è la parte un po' più perversa a mio parere di questo strumento. Quanto ti spetta se vai in maternità? Quando vai in maternità ti spetta questa roba complicatissima che in realtà vuol dire l'80% del tuo reddito netto, quindi non del fatturato, del reddito netto, dei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di congedo. Vi faccio un esempio pratico così si capisce, quindi mia figlia Clara che avete visto girare oggi è nata il 4 maggio 2019, il mio congedo è iniziato il 4 marzo 2019, mi viene conteggiato il mio reddito dal 4 marzo 2018 al 4 marzo 2019, per comodità viene diviso in 12 mesi come se fosse uno stipendio e mi vengono dati, mi viene dato l'80% dello stipendio tra virgolette mensile per 5 mesi. Come e quando si fa domanda? Si fa domanda online dal sito dell'Inps a cui accedete o col pin dispositivo o meglio con la speed, se non ce l'avete fatevela subito perché è una roba comodissima e si deve fare entro massimo un anno dal parto ma si può fare anche prima del parto, quindi a partire più o meno dagli ultimi mesi di gravidanza. Io consiglio di farlo prima perché prima la fate e prima vi pagano. Per farla vi servirà un certificato medico che verrà caricato direttamente sul sito dell'Inps da un medico accreditato per questo servizio, questo certificato costa circa 36 euro, una cosa così, e dopodiché non dovete fare praticamente più niente, salvo poi se avete problemi, come a volte capita, farvi qualche coda allo sportello. Ci tengo a sottolineare che questo strumento, come quelli che vedremo in seguito, vale sia per le madri biologiche, sia per le madri adottive. Ecco il mio super asterisco, il periodo di congedo o meglio il periodo antecedente al congedo che è quello su cui viene fatto il calcolo, sia dell'intennità sia dei tre mesi minimi di contribuzione necessaria. Può essere a cavallo di due anni fiscali, quindi a meno che voi non partoriate nel primo trimestre di un anno, sarà sicuramente a cavallo di due anni fiscali, per cui bisognerà ricordarsi dopo un anno più o meno di chiedere il conguaglio. Se i contributi versati non sono stati moltissimi, bisogna ricordarsi che l'Inps considera i versamenti come mensili. Adesso vi spiego questo passaggio che per me è stato un po' complesso da capire, quindi spero che la mia spiegazione vi potrà aiutare. Poniamo il caso per esempio di una bambina nata a maggio. Abbiamo detto che il periodo di calcolo va da marzo 2018 a marzo 2019. Abbiamo visto che il minimo contributivo sono tre mesi. Che cosa vuol dire tre mesi? Bisogna far riferimento al minimale contributivo che è previsto ogni anno dall'Inps e viene esplicitato attraverso delle circolari. Qui, dove c'è scritto qui, vi ho messo il link, poi se recupererete le slide, alla circolare di quest'anno. Viene considerato minimale contributivo per 12 mesi una cifra che si attesta intorno ai 4.000 euro. Quindi tre mesi cosa sono? Quei 4.000 diviso 4, scusate, calcoliamo un trimestre. Quindi se io ho versato qui circa 1.000 e qualcosa euro, ho versato tre mesi di contributi. Però attenzione, come li calcola l'Inps? Io ho versato questi tre mesi di contributi, poniamo, e lui me li calcola come se avessi versato gennaio, febbraio, marzo. Quindi mi viene considerato come valido per il calcolo dei contributi versati solo un mese. Questo è un po' un paradosso perché come sapete tutti qua noi non versiamo mensilmente i contributi ma li versiamo due volte l'anno. Eppure l'Inps per semplificarsi la vita evidentemente li calcola così. Quindi cosa rischio? Se io avessi versato solo questi tre mesi, l'Inps non mi avrebbe reputato, diciamo, coi requisiti minimi per avere la maternità perché mi considerava un mese solo. Io per capire questa cosa ci ho messo più o meno sei mesi, telefonate, mail varie. Quindi magari qualcuno può essere utile e quindi ecco volevo spiegarvi questo meccanismo. L'astensione, come vi dicevo, non è più obbligatoria. Quindi non viene più richiesta, diciamo, l'autocertificazione come invece per esempio ho dovuto fare con la nascita della mia prima figlia. L'altro strumento a disposizione è il cosiddetto congedo parentale o quella che viene anche chiamata maternità facoltativa. A me piace più chiamarlo congedo parentale perché coinvolge eventualmente anche i papà, sia dipendenti che freelance. E che cos'è? La possibilità anche qui di astenersi tra virgolette dal lavoro facoltativamente per un massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Per i dipendenti, quindi nel caso di un papà dipendente per esempio, non è entro i tre anni ma mi sembra entro i sei anni anche se avevano proposto di cambiarlo e di allungarlo ulteriormente. I requisiti sono gli stessi del congedo di maternità però attenzione perché per quanto riguarda l'astensione dal lavoro purtroppo l'Inps non ha ancora recepito l'abolizione dell'obbligo di astensione perché non ha proprio emesso le circolari attuative. Per cui se voi fate richiesta di congedo parentale vi chiederà di certificare l'astensione dal lavoro. Questo è un punto aperto su cui al momento non ci sono grandi soluzioni, siamo in attesa di capire come fare, però appunto da considerare perché c'è questa discrepanza. L'indegnità si calcola allo stesso modo della precedente, cioè quella di congedo di maternità però invece che essere l'80% è il 30%. Come quando fare domanda si fa domanda sempre online facendo riferimento al certificato medico già caricato prima dell'inizio del periodo di congedo. Il congedo come abbiamo detto può essere usufruito anche dai papà, ovviamente i sei mesi sono cumulativi quindi per andare a calcolare il congedo totale dovrò considerare i giorni di congedo della mamma e i giorni di congedo del papà. Se il papà per dire prende tre mesi di congedo la mamma può prendere tre mesi di congedo. La sostituzione di maternità io l'ho chiamata così, in realtà è una possibilità prevista sempre dallo statuto degli autonomi ed è la possibilità previo consenso del committente di farsi sostituire da un'altra professionista o un altro professionista di fiducia che abbia le stesse caratteristiche, le stesse capacità professionali e che sia stato ovviamente concordato da cliente e professionista e quindi tutto e per tutto equivale a una sostituzione di maternità. L'ho inserita in questo discorso perché secondo me è una possibilità interessante per tutte quelle professioniste che hanno magari una collaborazione continuativa o un cliente unico e quindi questo può dare magari una maggiore sicurezza nel momento in cui ci si deve allontanare per qualche tempo dal lavoro. Gli altri aiuti economici, posto che è tutto in divenire perché come ci ha spiegato questa mattina la nostra commercialista, ci sono anche qui varie voci su forse un bonus unico che andrà a sostituire diversi bonus, le detrazioni, non si sa, vi faccio la fotografia di quello che è al momento, poi su queste cose ovviamente bisogna sempre tenersi aggiornati, al momento ci sono degli aiuti che sono dati in base al reddito ed altri che sono indipendenti dal reddito. Per esempio il bonus mamma domani è un bonus 800 euro di una tantum che può essere richiesto da tutte le lavoratrici freelance o dipendenti indipendentemente dal reddito a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza, sempre utilizzando quel famoso certificato medico caricato sul sito ed entro un anno dalla nascita del bambino. Gli assegni al nucleo familiare, questi invece sono legati al reddito però diciamo che è un massimale abbastanza alto quindi io spero che qua sia tutti freelance ricchissimi però diciamo che chi ha un guadagno medio di solito ci rientra. L'unico limite è che il 70% del reddito deve essere proveniente da lavoro quindi se siete dei ricchi redditieri non vi spetta. Il bonus nido invece anche questo è senza limiti di reddito è un contributo di massimo 1500 euro per coprire la rata di un eventuale nido a cui iscrivete vostro figlio o vostra figlia. Viene assegnato su base chi prima arriva meglio alloggia quindi appena esce il bando è consigliabile fare domanda. E poi il cosiddetto bonus bebè che viene dato per i redditi con un ISEE fino a 25.000 euro, parliamo di reddito familiare e consiste in 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi. Per i redditi più bassi c'è un contributo maggiore. Questo era una panoramica su quelli che sono i nostri diritti come madri freelance. Sul come sopravvivere ai figli che era la seconda parte del titolo del mio intervento. Io purtroppo non ho ricette da darvi, vi posso solo dire che serve tanta pazienza, tanta fortuna, tanto amore, una buona fascia porta bebè e una squadra di sostegno su cui contare. Grazie mille.